Musica Dal 18 ottobre non sarà più necessario esibire questo contrassegno sul parabrezza, lo sapevo oppure no? No, non lo sapevo. Lo sapeva già? Sì, sì, lo sapevo già, sì. Buono a sapersi. Sarà la targa del veicolo a dimostrare se il mezzo è assicurato. Si tratta di un sistema rivoluzionario che consente agli agenti di polizia di puntare con uno strumento tecnologico una vettura in transito e scoprire subito se è regolarmente assicurata. Il provvedimento dichiara battaglia alle frodi perché il tagliando può essere contraffatto. Secondo i dati diffusi dall'ANIA, l'Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici, in Italia circolano 3,9 milioni di veicoli privi di regolare contrassegno RC Auto. Ed ora in poi, come verranno eseguiti i controlli? Come previsto dal decreto ministeriale 110 del 9 agosto 2013, le verifiche delle forze dell'ordine partiranno dalla lettura della targa attraverso i dispositivi di rilevazione e distanza, come telepass telecamere delle zone a traffico limitato, autovelox e tutor. In circa 170 comuni d'Italia, il corpo di polizia locale utilizza invece il sistema telematico Targa System. Con gli agenti della polizia locale di Ciampino, in provincia di Roma, vi mostriamo come funziona questa tecnologia. Una Grio Bravo Romeo 293, priva d'assicurazione. Cosa ha segnalato il sistema? Il sistema proprio in questo momento ci ha segnalato il passaggio di un'autovettura che è priva di assicurazione. Quindi ha dato immediatamente l'alert e noi via radio abbiamo avvertito la pattuglia, quella che è a valle, per effettuare il controllo direttamente rispetto alla documentazione che porta l'automobilista. Quindi in questo caso occorrono due pattuglie? In questo caso stiamo facendo un'attività di controllo con due pattuglie. Ha detto la pattuglia a valle che è stata agganciata e adesso loro provvederanno a fare il controllo documentale e facciamo un riscontro se effettivamente la macchina risulta non assicurata. Il targa system che abbiamo qui è un targa system di prima generazione posto su cavalletto nel giro di due secondi, due secondi e mezzo. Effettua un collegamento con la banca dati della motorizzazione ed è in grado di restituirci immediatamente se la macchina è assicurata, se è in regola con la revisione. Ma è cosa ancora più importante se risulta rubata o se è inserita in un'apposita blacklist, ovvero uno di quei veicoli comunque da attenzionare perché in precedenza hanno commesso dei reati o altre situazioni analoghe sul territorio di Ciampino. Ci segnalava la pattuglia poco fa perché abbiamo detto che in caso di auto rubate esiste un protocollo particolare, nel frattempo che parliamo e questo rumore di sottofondo ormai l'abbiamo imparato, è un segnale di una serie di autovetture che vuoi per la revisione, vuoi per l'assicurazione risultano irregolari. Quanto costa e la spesa è a carico di chi? Allora, quanto costa è veramente, intanto è un contratto di, diciamo così, io lo chiamo noleggio a lungo termine, sostanzialmente per due o tre anni a scelta si paga un canone che è veramente irrisorio, mensile e alla scadenza del contratto pagando un prezzo di riscatto, quindi una formula di locazione finanziaria allo strumento si può anche acquistare e comprende l'aggiornamento con tutto il programma, il software che gestisce queste attività e così via. Gli altri paesi che già da tempo adottano queste tecnologie di accertamento a distanza sono la Francia, la Spagna, la Gran Bretagna e la Germania, adesso in realtà anche nel nostro. E se, fino a prova contraria, con questo nuovo sistema nessun automobilista potrà più farla franca, il Codacon si chiede che il prezzo delle polizze venga drasticamente abbassato. Per una volta si potrà dunque passare dagli slogan ai fatti, pagano tutti e tutti pagano meno. Allora tenete a mente, dal 18 ottobre diciamo addio al contrassegno dell'RC Auto dal parabrezza. Questo non significa che la polizza non si pagherà più. Le forze dell'ordine, per accertare il regolare pagamento, scansioneranno la targa dei veicoli attraverso i sistemi di rilevazione a distanza che vedete in sovraimpressione. L'obiettivo del provvedimento è far pagare tutti i possessori dei veicoli e stanare quelli che viaggiano senza copertura assicurativa. Come leggete al momento, i furbetti sono circa 4 milioni. Grazie a tutti.